Ok ragazzi, nella giornata di ieri, mentre stava visitando la Cecenia, ospite di Kadirov, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, ha baciato un Corano. Ebbene sì, dopo aver passato un pomeriggio al tiro a segno ed essersi messo le cuffie antirumore in questo modo, ed aver visto la performance non esattamente esaltante del figlio preferito e primogenito di Kaddi, il quale utilizza rigorosamente un fucile AR-15 di fabbricazione americana, o forse qualche suo clone cinese, ha baciato un Corano che gli era appena stato regalato. Ebbene, a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? La domanda sorge spontanea, tanto se siete affezionati alle tradizioni, ai cari, bei, vecchi valori russi di una volta, quanto se vi occupate di geopolitica. In primo luogo, questo potrebbe essere un gesto completamente spontaneo e senza un secondo fine. D'altronde, non è la prima volta che zio Vlad, all'improvviso istintivamente, si mette a baciare cose e persone. Qui, per esempio, potete vederlo mentre bacia il pancino di un bambino in pubblico. In secondo luogo, zio Vlad potrebbe essere diventato improvvisamente religioso e aver sentito la necessità di ringraziare la divinità. Magari, semplicemente, dopo aver visto la performance del figlio di Kaddi, è riuscito a sfuggire al saggio di danza delle figlie di Kaddi. È una cosa per cui effettivamente il piano di sopra può essere ringraziato. O magari puoi baciare un libro sacro perché speri, rendendo omaggio alla divinità, che questa guardi verso di te e ti dia una mano. A Rostov, per esempio, ci sono milioni e milioni di litri di carburante che stanno bruciando da almeno cinque giorni e i sacerdoti incaricati di intercedere con l'Altissimo, al momento attuale non hanno combinato granché. Oppure perché gli attacchi ucraini iniziano a funzionare ed è stato colpito, forse addirittura distrutto, un aeroporto nel Volgograd, un aeroporto militare, ragazzi, dove c'era anche un centro di comando. Non si sa mai, eh! Magari le cose si stanno mettendo così male che a zio Vlad non è rimasto altro da fare che raccomandarsi alla divinità. E invece no! Molto, molto banalmente, zio Vlad sta utilizzando la psicologia delle masse e la religione come elemento di soft power. Tradotto in parole povere, zio Vlad, da una parte, osseguendo il Corano, cerca di tenere unita quella parte multietnica della federazione russa, cioè Cecena, ma soprattutto sta mandando un messaggio ai fedeli del Corano che si trovano sparsi in tutto il mondo. In Russia crediamo nei vostri principi, che poi sono sostanzialmente anche i nostri, quindi venite a combattere da noi oppure quantomeno continuate a passarci i vostri missili e i vostri droni. Non è infatti un segreto di Stato che zio Vlad voglia rimuovere i talebani dalla lista nera dei bipisti e che abbia un più o meno fruttuoso accordo, una partnership con l'Iran, fornitore di droni Shahed 136, altresì ritargati come Geranio 2, alla Russia. La Russia di Vladimir Putin poi ha un altro problema. Avrete notato tutti che gli attacchi contro l'Ucraina, gli attacchi missilistici, sono in netto calo. I russi utilizzano molto di più gli Shahed, utilizzano qualche missile balistico, però insomma non fanno più quei grandi esploat che erano soliti fare fino a qualche mese prima. Questo perché buona parte degli attacchi veniva lanciato sfruttando la flotta del Mar Nero, ma la flotta del Mar Nero è diventata un bersaglio decisamente facile per gli ucraini e quindi è stata spostata decisamente più a est, non è più operativa. Anche perché ha perso il 40% del suo tonnellaggio e all'incirca il 30% delle unità. Pare comunque che i russi, come presenza simbolica, abbiano lasciato delle esche in plastica, riempite ovviamente di aria, a forma di sottomarino chilo. Esche che sono completamente inutili perché gli attacchi vengono pianificati via satellite e i satelliti moderni sono perfettamente in grado di distinguere fra un sottomarino vero e proprio e un pallone gonfiato. E mentre ci prepariamo per sentire l'intervento del pallone gonfiato del giorno, vediamo un pochino come è andato l'attacco contro questo aeroporto militare. Ce lo spiega un blogger russo. E sta ancora volando, Bippo, l'hanno completamente distrutto. Hanno iniziato a distruggerlo alle tre e mezza del mattino e stanno ancora continuando. E' davvero una tragedia, ragazzi. E' una cosa seria questa. Poi, per motivi di copyright, non posso proseguire oltre, se posso vi lascio il video da un'altra parte, ma sostanzialmente questo milblogger ci dice che sta esplodendo tutto e tutto sta andando a fuoco. L'aeroporto è completamente distrutto. Tutti i nuovi hangar stanno saltando per aria. In realtà sta esplodendo praticamente tutto. Quindi, in definitiva, a quanto pare, gli ucraini stanno riuscendo a neutralizzare qualche aeroporto vicino al confine. Non c'è bisogno che vi dica quanto è importante perché, per l'appunto, una delle poche armi realmente efficaci nelle mani dei russi sono le cosiddette gliding bomb. Si tratta praticamente di bombe leggermente modificate, quindi poco costose, che vengono caricate sui jet e sui bombardieri in modo del tutto normale, ma possono percorrere decine e decine di chilometri prima di schiantarsi sull'obiettivo. Per cui i jet restano in posizione più o meno sicura, scaricano le bombe, rientrano alla base, i danni li hanno gli ucraini. In questo modo, invece, colpendo direttamente gli aeroporti, gli ucraini impediscono ai jet di decollare e, cosa ancora migliore, riescono a distruggerli. Intendiamoci, colpire gli aeroporti per gli ucraini non è tanto facile quanto lo sarebbe per noi brutti, cattivi e puzzoni della Nato. Perché agli ucraini, purtroppo questa è una cosa che devo rilevare ogni volta, abbiamo dato i nostri fondi di magazzino. Per se vuoi distruggere un aeroporto, il mezzo migliore è utilizzare Atacams con bombe a grappolo. O meglio, Atacams dotati di una testata con cluster bombs. In pratica, l'Atacams raggiunge l'obiettivo. Le cluster bombs non sono altro che composte da letteralmente centinaia di granate più o meno piccole. Non fai grandissimi danni, ma fai arrecchi danni uniformi su una superficie relativamente ampia. Se tu vuoi rendere non operativo un aeroporto e danneggiare un buon numero di aerei, non hai bisogno di colpire gli aerei singolarmente, ma molto banalmente hai bisogno di bombardare l'intera area. In questo modo renderai le piste inservibili e se ci sono degli aeroplani, li danneggerai di sicuro. Non li distruggerai, perché si parla di tanti piccoli esplosivi, però, insomma, certamente puoi fare in modo che non decollino per molto, molto, molto tempo. Invece, gli Stati Uniti hanno passato agli ucraini principalmente Atacams contestate convenzionali. Gli ucraini, quando colpiscono gli aeroporti, lo fanno principalmente con i loro droni o in alternativa utilizzando razzi e missili. Quindi, effettivamente, se riesci ad arrivare nel giusto raggio d'azione, un I-Mars può arrecare dei danni, però devi sapere esattamente dove colpire gli aeroplani e utilizzare gli I-Mars per danneggiare una pista, detto terra-terra, è palesemente anti-economico. A proposito, mi sono dimenticato di dirlo e non è esattamente un dettaglio, l'aeroporto militare che abbiamo visto bruciare nel Volkograd è quello di Marinka. Gli ucraini, nel frattempo, sono riusciti ad avanzare ulteriormente e la reazione dei russi stenta a farsi vedere, o meglio, non c'è ancora. Questo perché, secondo l'intelligence ucraina, i comandi russi sono nel panico, ma non per timore degli ucraini, come sarebbe logico aspettarsi, no, per timore di Vladimir Vladimirovich Putin. Infatti, nessuno al comando russo vuole prendersi la responsabilità di eventuali fallimenti. Quindi, che cosa fanno? Se ne stanno tranquilli a Mosca, a San Pietroburgo, a dare ordini nel Kursk. Ma nel Kursk, di solito, non ci sono comandantoni, comandantoni. Ci sono semplicemente ufficiali di rango medio o basso. Per cui, queste persone non ricevono ordini chiari, devono gestirsi con quel poco che hanno e normalmente saltano fuori dai bippini mica male. Al punto che gli ucraini, al momento attuale, hanno il controllo di oltre 92 insediamenti e probabilmente 1.300 km quadri o giubilì. Ma non è l'estensione dell'area che controlli a fare la differenza. È l'importanza delle infrastrutture che sei in grado di controllare e soprattutto di sottrarre al nemico. Nel frattempo, a proposito di comandanti, Aptil Audanov non è riuscito a trattenersi dal pubblicare i TikTok giornalieri. Pare che però abbia avuto un problema, per cui ieri non è riuscito a effettuare l'upload di nulla, quindi oggi ha semplicemente raddoppiato il numero dei video caricati. Vediamo insieme qual è il suo punto della situazione. Quali obiettivi stiamo raggiungendo? Mi dispiace di non avervi potuto aggiornare perché ieri ho avuto dei problemi con internet. Sì, non so se sia il tuo stesso comando, io penso di no perché non credo che tu ti trovi nel Cusca al momento, ma pare da fonti aperte che alcuni dei tuoi guerrieri Akhmat si siano ritirati strategicamente dal Gov, abbiano raggiunto uno dei vostri quartieri generali e poi gli ucraini, avendo seguito questa pattuglia di eroi, proprio sveglia, professionale e tutto il resto, dopo aver scoperto dove si trovava la base, l'hanno fatta bombardare. Pare che abbiano eliminato uno dei comandanti dell'Akhmat. Io naturalmente non ci credo, perché si tratta di soldati d'elite altamente specializzati, eccetera, eccetera, però, insomma, un bombardamento potrebbe giustificare un momentaneo calo nella velocità di trasferimento dei dati nella rete. La butto lì. E così, a causa di questo, non ho potuto farvi rapporto ieri. Non ti preoccupare, tanto sono abbastanza sicuro che il tuo rapporto di oggi è identico a quello dell'altro ieri. avrai sicuramente fatto cose, visto gente e distrutto tanti mezzi ucraini. Al fronte, sia lodato l'Onnipotente, va tutto bene. Guarda, all'ilà del fatto che il merito è di zio Vlad che bacia i Corani è non certo tuo, se l'Onnipotente è così favorevole, ma intendo dire, non ho mai incontrato un comandante russo che dicesse qualcosa del tipo «Accidenti, sta andando tutto a bippane». Non l'ho mai visto, o meglio, ce n'era uno, un certo Prighi, ma non è andato proprio tutto benissimo, benissimo, benissimo per lui. Il nemico oggi non ci ha ingaggiato in combattimento diretto, ma noi abbiamo comunque distrutto dodici dei loro mezzi. Abbiamo distrutto vari pick-up e poi c'era anche un carro armato. Mi dicono i miei ragazzi che fosse un Abrams presente nel nostro distretto. Pum, kapum, distrutto, era solo un Abrams. E questo è come stanno le cose. Ah, sì, 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 abbiamo anche colpito dei pezzi di artiglieria di vario tipo e calibro. Ah, e poi volevo dirvi che i nostri ragazzi hanno anche distrutto alcuni centri di comando e controllo. Apti, se me la metti giù così, sembra che i tuoi ragazzi abbiano sconfitto l'intero esercito ucraino da soli nell'arco di 24, 48 ore o giù di lì. Ti rendi conto che se le capacità operative, tattiche e perfino a questo punto strategiche dei tuoi ragazzi fossero queste, tu ti ritroveresti a comandare il Ministero della Difesa di Kiev da due anni e sei mesi circa? E questo è il modo in cui vanno avanti le cose del nostro settore. Il nemico ha già iniziato a riallocarsi. Sì, Apti, il problema è che il nemico si sta riallocando ispandendosi, non ritirandosi. probabilmente gli ucraini proveranno a mettere fuori il loro naso nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Speriamo di potergli dare un bacetto a quel naso prima che si ritirino e tornino a casa. Apti, questa non è esattamente una frase davvero duro. Anzi, magari Zio Vlad l'apprezza perché come abbiamo visto dà dei bacetti così a caso, ma tecnicamente io l'avrei evitata perché l'idea che tu dai un bacetto a qualche altro soldato anche se sul naso non è che sia esattamente davvero macio. Non so se intendi cosa intendo. Voi e io sappiamo perfettamente quale sarà la conclusione di questa storia. La Russia è destinata a vincere. Noi non abbiamo alcuna altra opzione. Siamo destinati a vincerla questa operazione militare speciale. Le truppe dell'anticristo non hanno alcuna possibilità. Adesso ci sarebbero anche le truppe dell'anticristo. Ma poi tra l'altro scusami un attimo ma tu non sei di un'altra parrocchia? Cioè tu come fai a guidare le truppe contro l'anticristo? Insomma non è esattamente la tua guida il tuo sponsor. Tu dovresti avere qualcun altro che so un profeta? Noi vinceremo questa guerra perché il nostro esercito è sostenuto dall'onnipotente. Noi siamo le sue truppe il suo esercito in terra con la T maiuscola perché intende dire il pianeta non il piano terra in cui si trova ok? lui è la truppa dell'onnipotente sul pianeta terra. Non so il perché ma profuma di blasfemia questo discorso. E la divinità ci porterà alla vittoria. Inoltre voglio dirvi anche un'altra cosa. Noi faremo il nostro lavoro e non romperemo i ranghi. No romperete molte altre cose ne sono convinto. Noi andiamo avanti potere agli Akhmat la Russia è forte ci si vede al bar o qualcosa del genere. Insomma ragazzi l'alto comando cadirovita è in fase di negazione assoluta. Noi sappiamo che le cose non stanno come le dice apti per un motivo tremendamente banale. gli ucraini hanno iniziato a catturarli i cadiroviti e ci mostrano le loro carte d'identità alcune volte anche le loro persone il loro aspetto ma soprattutto anche le loro patch per cui nel Kursk la situazione è tutt'altro che tranquilla pare inoltre ma la notizia non è confermata ufficialmente perché gli ucraini quando fanno sul serio restano in silenzio che siano penetrate altre forze ucraine un pochino più a nord vicino alla bielorussia e un pochino più a sud però ripeto queste sono voci dei mil blogger russi non c'è ancora conferma non ci sono immagini non c'è visuale cioè intendo dire non ci sono foto geolocalizzate con gli ucraini che tolgono la classica bandiera russa dal municipio locale o da quello che hanno nei piccoli insediamenti e la sostituiscono con una delle loro insomma la situazione è ancora molto fluida e il conflitto è ben lontano dal chiudersi o dall'essere vinto pareggiato o perso certamente i russi per ora a sud continuano ad avanzare contrariamente alle previsioni a quanto riferiscono alcuni blogger filorussi al momento attuale nessuna città rilevante ucraina è caduta però indubbiamente i russi poco alla volta avanzano esauriranno la spinta prima di riuscire a prendere uno snodo logistico ucraino nel sud purtroppo lo scopriremo nei prossimi mesi nel frattempo fatemi sapere quello che ne pensate lasciando scritto qualcosa qui sotto e naturalmente come sempre se volete sostenere il canale perché è diverso dagli altri e perché merita ricordatevi di iscrivervi attivare la campanella condividere il link al video sulle piattaforme social che frequentate e lasciare un mi piace se poi vi sentite super diventate un Patreon oppure ancora abbonatevi se non farete tutto questo in un futuro alternativo remoto e puramente eventuale potreste trovarvi zio Vlad come il sacerdote di vostra suocera io vi ho avvisati poi fate voi come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti grazie a tutti